segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora elenia lucaselli ha ragione rampelli è un fatto goliardico finito male o nasconde qualcosa di profondo anche una qualche forma di rivalza da parte di qualche dirigente vicino appartenente a fratelli d'italia diciamo la rivalza si si dimostra e si ottiene in altri modi non certo attraverso dichiarazioni stupide come questa perché obiettivamente il fatto in sé è veramente diciamo un fatto idiota insomma non obiettivamente è incommentabile quindi insomma bene che ci siano state poi le dimissioni immediate perché fatti come questi insomma lo ha detto bene rampelli che poi rappresenta la destra veramente la prima di fratelli d'italia e obiettivamente fatti come questi non in fratelli d'italia sicuramente non trovano non trovano spazio e vengono immediatamente condannati ma c'è una preoccupazione di classe dirigente perché ora arrivo parto da qui ma da qui ora dovete fare tante nomine per tutte le aziende pubbliche c'è anche qualche braccio di ferro con la lega allora questo tipo di uscite di qualcuno che era comunque stato nominato alla testa di un'azienda ma la storia è piena di persone di manager e di dirigenti che arrivati diciamo in ruoli dove si decide la politica industriale anche dell'italia insomma magari impazziscono no insomma può succedere si ma consigliano ad allargare il bacino dei curriculum ma sicuramente guardi io credo che il presidente meloni su questa vicenda delle nomine stia facendo una valutazione a 360 gradi che ha a che fare non con l'appartenenza ma con la qualità e dei manager che si intendono tenere a capo delle partecipate più importanti d'italia e credo che questo sia il criterio che debba prevalere su tutto noi abbiamo bisogno di manager che sono capaci e che sono capaci in quel ruolo cioè che conoscono molto bene le aziende e nelle quali poi si va ad operare continuità io adesso no 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 guardi niente da aggiungere no 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 no